Si rinnova anche quest'anno l'appuntamento con l'evento Innovazioni 2019, il format giunto alla sesta edizione, promosso, lo ricordiamo, dalla sezione Servizi Innovativi di Confindustria Chieti Pescara. All'evento possono concorrere tutte le piccole e medie imprese, start-up e spin-off universitari con sede legale ed operativa sul territorio nazionale. L'ultimo rapporto dell'andamento dell'innovazione, il rapporto europeo che è stato fatto negli ultimi otto anni, quindi dal 2011, l'Abruzzo, la nostra regione, rientra fra le otto regioni europee che hanno avuto una crescita, la maggiore crescita, crescita a due cifre, nell'ambito dell'innovazione. Quindi vuol dire che si sta facendo molto e che stiamo lavorando molto. Certo c'è ancora molto da fare, però insomma i progressi ci sono e le prospettive sono buone. Il presidente della consulta Servizi Innovativi di Confindustria Abruzzo, Lino Olivastri, ha puntato l'attenzione sulla rinnovata collaborazione con gli atenei della regione Abruzzo. Anche quest'anno, nelle due giornate dedicate all'evento, il 15 ed il 16 novembre prossimi, si svolgerà la gara di idee denominata Innovation Accanton, che vedrà impegnati gli studenti universitari nella risoluzione di problematiche aziendali sottoposte da aziende associate a Confindustria Chieti Pescara. Per quanto riguarda le edizioni di quest'anno, la grande novità è che avremo due categorie separate, per le PMI innovative e non, e per le start-up e gli spieno fu universitari. Quindi sostanzialmente il numero degli slot disponibili per i candidati sarà doppio, quindi ci saranno più progetti e insomma ci si divertirà di più. Nel corso dell'incontro di Samani sono stati ufficializzati i nomi dei campioni di innovazione grandi imprese che saranno premiati come eccellenze italiane e che porteranno la loro testimonianza a Innovazioni 2019. Saranno Enio Barbarossa, presidente di Cesar SRL, che controlla il marchio Acqua e Sapone per la straordinaria capacità innovativa, e Francesco Casoli, presidente di Elika S.p.A. per lo straordinario percorso imprenditoriale a livello internazionale. Grazie. 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 Grazie.